Era una partita che tutti temevamo, quella con la Fiorentina, soprattutto quel 6-1 preso dal Sassuolo, la Fiorentina aveva tutto per metterci in difficoltà, soprattutto riprendere, riprovare ad alzare la testa, l'ha fatto e la Juve dunque esce dalla partita con un pareggio, un pareggio guadagnato con le unghie e con i denti, che alla fine sta quasi anche un po' stretto alla Juve con le occasioni avute nel finale, però oggettivamente diciamo che la Fiorentina ha fatto una gran partita e per quanto visto nella prima parte della partita e anche verso la fine, quando la Juve è scesa un attimo di prestazione, probabilmente rischiava anche di meritare qualcosina in più. Insomma, la Fiorentina che va avanti 2-0 con la prima papera di aprile, davvero incredibile, aprile oggi non era in giornata, anche sul secondo gol, tiro di netto deviato da, non si sa se da Gamo o da Sabatino, comunque aprile si tuffa un po' troppo presto, ed è 2-0. Prima della fine del tempo però riusciamo a rimettere la testa avanti con un gran gol di Cernoia, però non sempre riescono le imprese come quella in Supercoppa con Milan e come sempre non riesce, è sempre il ribaltamento facile delle partite. La Juve riesce a pareggiare con un gran gol di Caruso, ma poi non riesce più a vincere. Nonostante le occasioni le abbia avute, la più clamorosa forse è capitata sui piedi di Bonfantini, che davanti si è fatta ipnotizzare da tasselli, proprio davanti alla porta, ed era l'occasione che avrebbe potuto far sì che la Juventus Women vincessero questa partita. Si interrompe, quindi questa striscia enorme di quasi tre anni, praticamente, di vittorie consecutive delle Juventus Women, prima o poi doveva succedere, non è che puoi vincere in eterno tutte le partite, però, insomma, direi che alla fine, in un discorso di campionato, questo pareggio tutto sommato va anche bene. Passi da otto a sei punti, ti recuperano due punti che però, con tutti gli scontri diretti ancora da giocare, sia tuoi che degli altri, sono un'enormità ancora, e non so quante passi falsi la Juve possa fare, perché oggi oggettivamente possiamo dire che la Juve ha veramente fatto molto favore alla Fiorentina, sbagliando l'impossibile. La domanda è, quante partite la Juve farà in questa maniera, regalando di fatto due gol alle avversarie? Secondo me poche, secondo me la Juve è ancora strafavorita, ed è ancora tranquilla con i suoi sei punti di vantaggio, però, oggettivamente, deve essere del servire da monito, così non si può pensare di giocare sempre. Anzi, anzi, serve subito uno switch, a partire già da domenica prossima, Coppa Italia contro l'Inter, oggi migliore in campo per la Juve, è difficile da trovare, perché a me non è piaciuta nessuna, abbiamo fatto veramente una partita pessima, a mio modo di vedere, la peggiore partita di quest'anno della Juve, e quindi dico della Fiorentina, Sabattino e Tasselli le migliori in campo. Per il resto, ragazzi, inutile star lì a fare casino, cioè, dopo tre anni una partita si può anche non vincere. Dispiace, perché avevi la possibilità, hai avuto le palle gol per chiuderla e portare a casa i tre punti. Fino alla fine, forza Juventus Women, comunque, più sei sulla seconda, e alla prossima partita.